La sesta commissione consigliare che si occupa di cultura ha deciso di onorare due giornate importanti per il nostro territorio, quindi la giornata della memoria e la giornata del ricordo. La giornata della memoria vedrà una seduta speciale della sesta commissione il 23 gennaio, un mercoledì, proprio con dei testimoni dell'evento per portare avanti quella che è la memoria di un evento che ha segnato tragicamente la storia del nostro popolo e del nostro territorio. Lo stesso vale per la giornata del ricordo, quindi nella seduta del 6 febbraio 2019 porteremo quelle che sono delle testimonianze che riguardano i martiri delle foibe con appunto dei testimoni per far capire anche quanto questa tragedia abbia segnato profondamente il popolo veneto sia all'interno proprio della nostra regione sia in Istria e Dalmazia dove ricordiamo il popolo veneto ha abitato per secoli, quindi due eventi fondamentali importantissimi che vedono la celebrazione istituzionale all'interno della sesta commissione.